Gossipita VIP, se lo sussurra, lo svegliamo. Katia Ricciarelli sarà una delle ospiti principali nelle prossime puntate di Storie di donne al bivio condotte da Monica Setta, in programma per il 21 maggio su Rai 2. Durante l'intervista, la celebre cantante ripercorre la sua vita, inclusi i suoi legami affettivi, tra cui spicca quello con Pippo Baudo, con cui si è sposata il 18 gennaio 1986, nel giorno del suo quarantesimo compleanno, per poi separarsi nel 2004. Durante la conversazione con Monica Setta, Katia Ricciarelli ha fatto una rivelazione sorprendente riguardo alla sua relazione con il noto conduttore. Ha confessato, io e Pippo Baudo abbiamo vissuto la perdita di un figlio prima del matrimonio e abbiamo tentato di avere un altro figlio attraverso la procreazione assistita. Parlando del suo legame con Baudo, Ricciarelli ha aggiunto, l'ho amato profondamente e sono stata estremamente gelosa, nonostante prima di lui avessi avuto amori importanti e passioni intense. Tra questi amori, emerge quello con José Carreras, di cui ha condiviso un aneddoto, quando ci incontravamo in hotel. Lasciavamo le valigie all'ingresso perché appena entravamo in camera finivamo a letto senza indugi. Ricciarelli ha raccontato anche di un momento in cui sospettò di un tradimento da parte di Carreras, per poi scoprire che si trattava di una sorpresa romantica organizzata da lui in persona. Ma non solo Carreras ha catturato l'attenzione della cantante, anche Alberto Sordi ha corteggiato Katia Ricciarelli con gesti romantici, come bouquet di cento rose rosse. Era un uomo appassionato e generoso, non solo con i baci come alcuni hanno detto. Mi presentò alla sua famiglia e mi trattò con grande gentilezza, nonostante fosse noto per la sua riservatezza.